Si intitola con tutto il cuore collezione a gesti d'amore ed è la campagna solidale promossa da Conad che in collaborazione con Goofy by Gain si è conclusa a fine dicembre con importanti numeri nel segno della sostenibilità sociale e ambientale. Travolti dalla positività e dall'allegria della collezione di simpatici Goofy ispirati a divertenti personaggi natalizi per l'addobbo e la decorazione, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo al personale sanitario che con dedizione si occupa dei bambini ospedalizzati. Infatti sono stati raccolti 50 centesimi per ognuno dei premi distribuiti per poi donare simbolicamente la cifra raccolta alla Fondazione Ospedale Salesi Ollus di Ancona. All'incontro erano presenti il direttore commerciale marketing di Conad adereatico Federico Sanghetta e Massimo Marchionni, vicepresidente di commercianti indipendenti associati Conad. Massimo, un grande gesto di solidarietà in favore delle persone più bisognose ma anche della sanità regionale, quindi parliamo di Ancona. Quando è iniziato questo progetto? Questo progetto diciamo che è un po' a lungo termine perché è iniziato dall'anno scorso, sempre in collaborazione con l'ospedale Salesi e quindi Conad ha fatto questa iniziativa di questa raccolta di fondi e quest'anno abbiamo donato 79 mila euro. La raccolta è stata fatta nel periodo di dicembre, quindi tutti i negozi, tutti i punti vendita Conad della regione Marche che fanno riferimento alle due cooperative che sono nella regione, che sono CIA, commercianti indipendenti associati e Conad adereatico, hanno alla fine devoluto questi 79 mila euro. Questo logicamente va, il ringraziamento va principalmente a tutti i nostri clienti perché l'iniziativa prima di tutto ci hanno creduto loro e speriamo di avere anche un proseguo di questa iniziativa perché per noi è fondamentale questo legame con il territorio e la solidarietà per noi è molto importante. Le hanno riferito a che cosa verranno destinati questi fondi? Sì, praticamente questi fondi verranno adoperati per, la fondazione li adopererà per l'ospedale, quindi per dei servizi per l'ospedale Salesi, tipo pet therapy, lo psicologo per i ragazzini, clown terapia, quindi queste sono una parte delle iniziative che loro faranno. Un motivo di orgoglio anche per le vostre strutture? Sì, assolutamente sì, ripeto, per noi è un motivo di vanto questa collaborazione con l'ospedale Salesi che è un'eccellenza della regione Marche. Sempre di più cerchiamo noi di stare vicino a queste associazioni.